E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video Già lo sapete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la notifica perché manca davvero poco ai 300.000 iscritti Quindi dai raga so che ci possiamo arrivare, confido in voi Oggi ragazzi andate a vedere una partita di Fortnite molto molto interessante È una partita che ho vinto durante una mia live streaming su Twitch in collaborazione con Paypal Dove appunto mi hanno scelto proprio per parlarvi di un argomento interessante che accomuna tutti quanti noi gamer e noi italiani Ovviamente sto parlando del mondo dell'eSports Per chi si dovesse essere perso la live non vi preoccupate vi lascio qui sotto in descrizione i link di Paypal Dove potete andare a vedere tutti gli argomenti che abbiamo trattato durante la live in collaborazione appunto con Paypal Quindi link in descrizione A fine video non appena ho vinto la partita su Fortnite è successo il delirio perché i miei fan sono letteralmente impazziti E mi hanno intasato la chat di donazioni Sono letteralmente impazziti proprio c'è stato un delirio più totale E dovete vederlo voi stessi per capire perché non posso spiegarvelo qui nell'intro Vi ricordo inoltre di seguirmi su Twitch e anche su Instagram Trovate i link qui sotto in descrizione per non perdervi mai nessuna mia live e mai nessun tipo di news Quindi seguitemi sui miei social perché è molto importante E quindi niente ragazzi godetevi il video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Perché il delirio ragazzi Il delirio Fatemi sapere Ehi raga vi starete domandando come mai vedete il gameplay senza audio e ci sta la mia voce Ho fatto questa piccola registrazione voiceover da mettere appunto su questa parte del gameplay Perché purtroppo a causa di una corruzione del file c'è stato appunto un errore con l'audio ed è sparito completamente Però è solamente per questi 20 secondi Però ci tenevo comunque a spiegarvelo semplicemente per comunque dirvi cosa è successo Quindi scusatemi per questo disguido Anche se in realtà non è colpa mia ma è colpa dei file che a volte purtroppo impazziscono Però adesso godetevi il gameplay con l'audio Tutto bene Volevi assaggiare? E hai assaggiato Oppe corne e patatine Ci siamo What a shock wave No la finanza Finanza No 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 Ma ti fai Vabbè mi hai fatto veramente Dovevo ammazzarli tutti Dovevo ammazzarli tutti Dovevo ammazzarli tutti No 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 Concettazione ragazzi non voglio Ma sono timmando Ma fammi capire No, raga, questo non ci vado insieme Mua Mamma mia, oh mamma mia, mi sto nervosendo ve lo giuro Mi sta avvenendo proprio, non lo so Un dolore Era un anonimo, ecco perché Un dolore Dai, voglio cecchirare uno Non uso mai il cecchino perché è dog shit come arma Però voglio di cecchirare uno Anche se questo sniper mi sta proprio sulle scatole Oh no È un po' di più Inizio Un po' di più Ma è un po' di più Anno Un po' di più Grazie a tutti. Sorry, brother. Siamo che mi stai un po' rompendo le scatole, però. Yikes. Oh, mi fa fare un attimo di shield, bimbo nutellina. Oh, mi fa fare un attimo. Oh, mi fa fare un attimo di shield. Ma porco... Frato, ma... Mi hai fatto girare le d***e e non poco, te lo posso segligare. Ok. 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 Baby! Ma cosa vuoi fare? Oh, stiamo calmi! GG. Cosa mi è arrivato? Nota! Do quel padanino! Ragà! Basta! Ma cosa fate? Cosa fate? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Cosa combinate? Cosa? Ho letteralmente... Ho letteralmente... Streamlabs... Cioè... Raga... Cioè, Imanix ha saltato da qua. Da qui. E da qui... Qui... Io stavo ancora in game. Era tutto, diciamo... Ok. Poi perché? Nota! Cosa fai? Imanix! Imanix! Cosa combini? Nota di nuovo! Ocala! C'è pure Ive! La donazione di Ive! E ancora Imanix! E poi 10 sub di Imanix! 5 di Ocala! E 10 di... Ma... Geyser! Quando le ha fatte Geyser? Co... Quando? Ma come? Quando le ha fatte? E... Non è neanche una maratona! Aiuto! Aiuto! È impazzita Imanix! Si è abbonata pochi... Tipo 10 minuti fa... E ha già regalato tipo 50 sub for... Forse di più. No, 39. E se giudica il posto numero 1 della settimana? Allora, andiamo un attimo per logico, ok? Un secondo. Allora, io mi ero affermata che eravamo qua. Che ho ringraziato Miki per l'abbonamento e Ocala per il gift. Allora, abbiamo... 4000 bits di nota. Nota! Grazie mille per i 4000 bits. Rick con 2000 bits. Rick, cosa combini? Grazie mille, Rick! Poi abbiamo... 1400 bits di Imanix. E un totale di 39 abbonamenti in regalo. Cosa combini? Sei impazzita! Grazie mille Imanix per i 1400 bits e per le 39 sub in regalo. E ti sei anche abbonata. Quindi ora sei una serpe, anche tu. Poi abbiamo... Luponese con i 100 bits. Grazie mille Lupo. Buongiorno anche a lei. Abbiamo Geyser con le 10 sub in regalo. Grazie mille a Geyser per le 10 sub in regalo. Geyser, grazie mille anche a te. Cosa combini? Poi Ocalino con altre 5 sub in regalo. Con la precedente una che aveva regalata a King. Me lo ricordo benissimo. Grazie mille anche a te che è sempre massimo del supporto. E grazie anche a Rick. Perché Rick non solo ha donato 2000 bits. Non gli bastava. Non ha donato anche 10 sub. Cosa combini? Grazie mille Rick. Grazie mille per la donazione. Grazie mille anche a te. Raga, ma che cosa succede? Basta. Ok. L'alert non finisce più. L'alert non finisce più. Grazie mille. Grazie.